Ciao a tutti e come sempre ben ritrovati su Link for Universe e benvenuti per un nuovo astrocaffè da passare insieme. Oggi torniamo a parlare del razzo Soyuz FG e vi ricorderete che a ottobre la missione Soyuz MS-10 doveva portare due astronauti verso la stazione spaziale, qualcosa però è andato storto, gli astronauti sono tornati a casa sano e salvi, però il razzo non ha funzionato come previsto. Nel video precedente avevamo ipotizzato che poteva essere legato a un danno da parte di uno dei booster, ma oggi abbiamo più dettagli e vedremo cos'è di preciso andato storto e quando potremo vedere di nuovo astronauti partire verso la stazione spaziale. Dunque, l'indagine è durata circa un mese e ha preso in considerazione vari elementi sia della produzione dei booster, del razzo stesso, ma anche video ripresi da parte del razzo stesso con una camera attaccata al booster principale di come è andato il lancio. Quindi, al di là delle parole e delle spiegazioni, possiamo letteralmente vedere il video del lancio, che è una cosa rarissima perché di solito non vengono mai rilasciati i video dei lanci del razzo Soyuz dalla prospettiva del razzo stesso, quindi al di là del danno è comunque una cosa fighissima da vedere, quindi se non l'avete già vista, eccola qua. Il razzo parte normalmente, tutto va bene, fino a che a un certo punto, quando deve venire la separazione dei booster laterali, che sono quelli che danno una spinta extra durante la prima parte del volo del razzo, si separano tutti a parte uno, il bloc D, uno dei booster laterali, e quando non si separa questo poi si piega e finisce per colpire lo stadio principale stesso. Questo fa uno squarcio all'interno del razzo, esce fuori ossigeno liquido, crea un tuta, non un'esplosione quanto prede fuoco, crea tutto un ambiente intorno pieno di detriti, e il razzo inizia a ruotare e nel frattempo, entro pochissimi secondi per fortuna, la navecella si stacca e viene portata via da lì, quando ritorna verso la Terra per la decelerazione contro, l'attrito contro l'atmosfera, porta a una decelerazione fino a 7G sul petto degli astronauti, però stanno tutti bene, stanno tornati a casa sani e salvi. Ora, il razzo è tra i più affidabili della storia dell'esplosione spaziale, però ha avuto tante rivisitazioni, tante diverse versioni. Questa che viene usata attualmente per il rancio dei umani è agli sgoccioli, si chiama Soyuz FG, ma ce ne sono soltanto altri 5, che partiranno più o meno tutti tra quest'anno e l'anno prossimo, e dal 2020 dovrebbe subentrare la versione Soyuz 2, in particolare la 2.1a, che è una delle versioni più aggiornate con anche sistemi di ridondanza, tra cui anche un sistema di ridondanza, proprio per evitare che succedano questo tipo di danni qui. Cos'è successo in particolare? Beh, allora, immaginate un piccolo spillo, va bene, un sensore piccolissimo. Quel sensore è attaccato dal booster, quello laterale, al razzo stesso. Quando finisce il suo lavoro, il booster si deve separare. Quel sensore dice a una valvola all'interno che il booster si sta staccando, così quella valvola rilascia ossigeno e spinge il booster lontano dal razzo, così il razzo non colpisce il booster. È per quello che poi li vedete separare così perfettamente e iniziano a formare quella che viene chiamata croce di Korolev, quando si separano e scendono giù insieme. Cos'è successo? Beh, da quanto pare, dalle indagini, durante la fabbricazione, durante le preparazioni al lancio, qualcuno ha colpito il sensore e l'ha piegato di poco più di 6 gradi. E questo ha fatto sì che poi dopo non è uscito fuori praticamente, quindi è rimasto attaccato, la valvola non è partita, il razzo è continuato ma il booster ha iniziato a separarsi però andando alla direzione opposta perché non c'era il getto, per spingerlo via colpendo poi il razzo. Quindi là fuori potrebbe esserci qualcuno che si è girato, magari l'ha chiamato un suo amico, si è girato ad altra comitata, in realtà non sappiamo cosa di preciso è andato, è andato storto. L'unica spiegazione è data da parte della Roscosmos, che è l'agenzia federale spaziale della Russia, e che c'è stato un danno per cattive pratiche durante la produzione. Tutti quanti i razzi Soyuz FG, i booster in particolare, sono stati ripresi in fabbrica, saranno smontati e riguardati ognuno per ogni componente per assicurarsi che tutto va bene, che questa cosa non succede di nuovo, e la prossima volta che verrà lanciato dovrebbe essere il 3 dicembre. Però nel frattempo ci sono delle prove, non con lo stesso razzo preciso, però dato che il problema era comunque dei booster, con gli stessi booster. Infatti c'è già stato un paio di lanci, e uno dei più recenti è stato da parte nostra, da parte dell'AESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, per un satellite che si chiama METOP-C, è il terzo satellite di una serie di satelliti meteorologici, ed è stato lanciato con una versione dello Soyuz chiamato STB. Quel lancio è avvenuto perfettamente, i booster hanno funzionato perfettamente, i sensori hanno funzionato, per cui c'è abbastanza confidenza che non succederà più durante il prossimo lancio. Quindi sperando che tutto vada bene, il 3 dicembre vedremo partire la Expedition 58-59, perché staranno per più tempo, e sono tre nuovi astronauti. Beh, uno in realtà è la sua quarta missione, ed è uno anche dei miei astronauti preferiti, ed è Oleg Kononenko, uno degli astronauti più veterani del programma spaziale, fa anche delle foto tra le più belle e strepitose, sia dell'esterno, ma anche della vita quotidiana degli astronauti. Quindi se non lo seguite, cercatelo su Twitter, per esempio. E poi ci sono David Saint-Jacques, che è un nuovo astronauta da parte dell'Agenzia Spaziale Canadese, la XA, e poi c'è un astronauta americano, un astronauta che è al suo primo volo insieme a Saint-Jacques, e lei si chiama Anna McCain, Anne McCain. Entrambi partiranno, sono al loro primo viaggio, partiranno con appunto la Soyuz MS-11. Partenza il 3 dicembre, tanto lo seguiremo insieme qui sul canale, e vi lascio con alcune delle ultime riprese, così lo vedete di nuovo, del lancio del razzo Soyuz FG, e di come i booster si separano, perché specialmente se qualcuno di voi è mai stato appassionato di razzi, o studia in generale spaziale, è una cosa straordinaria da vedere così in dettaglio, poter ammirare tutta la tecnologia che poi studi sulla carta, e poi vederla letteralmente mentre avviene. Ovviamente in questo caso con un danno è un problema, però si studiano queste cose appunto per essere sicuri, che poi non avvengono quando lanci persone, o se lanci persone, che tutto anche nel caso di danni vada per il meglio, e gli astronauti vengono portati a casa sani e salvi. Noi ci vediamo la prossima volta, un abbraccio come sempre, e continuate ad essere meravigliosi, vi stritoro un sacco. A proposito dei tre astronauti che partono ora a dicembre, nella squadra di backup c'è anche un astronauta italiano, che è Luca Parmitano, che si sta già preparando a prendere il posto di David Saint-Jacques, qualora dovesse succedere qualcosa, però il prossimo in lizza per partire sarà lui, quindi il prossimo anno avremo di nuovo un astronauta italiano sulla Stazione Spaziale Internazionale, incrociando le dita che tutto vada bene. E fu così che i log uffai.